Il Comune è pronto a giocarsi le ultime carte per convincere i sindacati di ANM a fare i prolungamenti della linea 1, ma tra i lavoratori domina lo scetticismo. L'avvio della procedura del concordato preventivo ha reso il clima pesantissimo e anche il faccia a faccia, convocato dal sindaco De Magistris, rischia di non portare da nessuna parte. Sul tavolo l'ipotesi di coprire il servizio non stop nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio con gli straordinari. De Magistris assicura i soldi ci sono fino a 300-400 euro a testa, ma potrebbe non bastare. I sindacati sono divisi e alzano il tiro. Tra le condizioni per sbloccare la situazione è il pagamento dei premi di produttività del 2016. Non solo. In un documento, la FIT CISL, Will Trasporti, UGL, Faisa CISAL, ORSA e Faisa Confail rigettano al mettente le accuse avanzate dal sindaco e la sua giunta, l'eventuale fallimento di ANM avrà un solo responsabile, scrivono, il comune di Napoli. Senza un accordo dunque, domenica i bus si fermeranno alle 18.30, mentre la metropolitana e i funicolari circoleranno fino alle 20. I napoletani, che vorranno raggiungere il centro per festeggiare la fine del 2017 e assistere agli spettacoli sul lungomare, saranno costretti a servirsi della propria auto oppure ad andare a piedi. Il servizio riprenderà poi la mattina successiva alle 6, ma solo per mezza giornata. Bus, metro e funicolari, infatti, si fermeranno di nuovo poco prima delle 13 e non riprenderanno le attività fino al 2 gennaio.